Musica Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Era bellissima Lo era Perché quel porco non l'ha violata Perché non l'ha soltanto uccisa Perché non l'ha soltanto uccisa Persone che l'hanno vista crescere Hanno applaudito quando l'ha sputata addosso Hanno sorriso quando il suo collo Posso capire Come potresti La mia Livia era innocente Anch'io ho perduto persone care così Per tradimento Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle Minaccia di impeccarmi se la depongo Quando sei pronto Deponila Ci penso io al carnefice No Mi Requiscat in pace. Eccolo! Eccolo! Eccolo!